Nota introduttiva Il singolare racconto, o meglio, la singolare raccolta di impressioni che segue, è stata scoperta in circostanze così straordinarie che meritano di essere descritte nei particolari. La sera di mercoledì 27 agosto 1913, verso le otto e mezza, la popolazione del villaggio costiero di Potowonket, nello stato americano del Maine, fu scossa da un rumore di tuono e da un lampo accecante. Chi si trovava vicino alla spiaggia vide una gigantesca palla di fuoco sfrecciare dal cielo e in mare, a poca distanza dalla riva, sollevando un'enorme colonna d'acqua. La domenica successiva, un gruppo di pescatori composto da John Richmond, Peter Bicker e Simon Canfield, intrappolò nella rete e trascinò a riva una massa di roccia metallica che pesava circa 180 kg e somigliava, secondo il signor Canfield, a un pezzo di lava. Quasi tutti gli abitanti furono d'accordo che l'oggetto era lo stesso, precipitato dal cielo quattro giorni prima, e il dottor Richard M. Jones, l'autorità scientifica locale, ammise che doveva trattarsi di un aerolito o di una pietra meteorica. Nel prelevare un campione da mandare a un laboratorio di Boston, il dottor Johnson scoprì che quel corpo metallico conteneva lo strano libriccino in cui era riportato il racconto che segue, tuttora in suo possesso. L'oggetto della scoperta somiglia esteriormente a un comunissimo tacquino delle dimensioni di 13x8 e contiene 30 pagine. Il materiale di cui è fatto, tuttavia, presenta notevoli peculiarità. La copertina è di una sostanza scura, simile alla pietra, sconosciuta ai geologi e infrangibile dai mezzi meccanici. Nessun reagente chimico sembra intaccarla. Le pagine sono fatte di materia simile ma di colore più chiaro e così prodigiosamente sottile da risultare flessibile. Il tutto è rilegato mediante un processo che non si è riusciti a chiarire ma che consiste nell'adesione della materia di cui sono fatte le pagine a quella della copertina. Non è possibile separare le due sostanze o strappare i fogli, per quanta forza si applichi. La lingua adoperata nel documento è greco-antico puro e numerosi esperti di paleografia affermano che i caratteri sono vergati a mano nel corsivo del II secolo d.C. Nel testo c'è ben poco che permetta di stabilire una data più precisa. Il mezzo di cui l'autore si è servito per scrivere non è stato stabilito con certezza, a parte il fatto che somiglia a quello moderno in cui si usa l'ardesia e la matita perardesia. Durante gli esami condotti dal defunto professor Chambers di Howard, diverse pagine situate per lo più in fondo al tacuino sono risultate confuse o completamente illegibili, circostanza che costituisce purtroppo una perdita irreparabile. Ciò che rimane è stato trascritto dal paleografo Ruth Ford e in questa forma affidato ai traduttori. Il professor Mayfield del Massachusetts Institute of Technology, che esaminò i campioni della misteriosa pietra, afferma che si tratta di un vero meteorite, opinione che il dottor von Winterfeld di Heidelberg, internato nel 1918 come pericoloso rappresentante di una potenza straniera, non condivide. Il professor Bradley della Columbia College adotta un punto di vista meno dogmatico e asserisce che nella pietra sono presenti grandi quantità di minerali sconosciuti, concludendo che attualmente non è possibile alcuna falsificazione. La presenza, la natura e il contenuto dello strano libretto rappresentano un tale problema che non si può nemmeno azzardare una spiegazione. Il testo, o almeno la parte che ne è stata conservata, viene dato qui nella traduzione più letterale che la nostra lingua consenta, nella speranza che qualche lettore possa interpretarlo e risolvere uno dei più grandi misteri scientifici degli ultimi anni. Era un posto stretto e io ero solo. Su un lato, oltre un margine di verde ondeggiante, c'era il mare azzurro, luminoso e mosso, da cui si alzavano i fluvi che mi intossicavano. I vapori, anzi, erano così abbondanti da darmi la strana impressione che il mare si fondesse col cielo, perché anch'esso era azzurro e luminoso. Sull'altro lato era la foresta, antica quasi come il mare, ed estesa all'infinito verso la terra ferma. Era molto buio perché gli alberi erano grandi, rigogliosi fino al grottesco, e numerosissimi. I tronchi giganti erano di un verde orribile che si fondeva in modo bizzarro, col tratto verde ed angusto in cui mi trovavo. A una certa distanza, su entrambi i lati, la strana foresta raggiungeva l'orlo del mare, cancellava la spiaggia e circondava completamente il tratto angusto. Osservai che alcuni alberi si trovavano effettivamente nell'acqua, come incurvati, in qualsiasi barriera che si frapponesse alla loro avanzata. Non si vedevano esseri viventi e non c'era segno che fossero mai esistiti, tranne me stesso. Mare, cielo e foresta mi circondavano, estendendosi verso regioni che non potevo nemmeno immaginare. Il silenzio era completo, fatta eccezione per la vegetazione agitata dal vento ed il mare. Me ne stavo in quel luogo silenzioso, quando all'improvviso cominciai a tremare. Se bene non riuscissi a ricordare come c'ero arrivato e conoscesse a stento il mio nome Rango, mi resi conto che se avessi scoperto ciò che si nascondeva intorno a me, sarei impazzito. Ricordai cose che avevo studiato, cose che avevo sognato, cose che avevo immaginato e desiderato in un'altra e remota esistenza. Pensai alle lunghe notti in cui avevo guardato le stelle, maledicendogli dai perché la mia anima libera non poteva attraversare gli spazi inaccessibili al mio corpo. Riesumai antiche blasfemità, studi terribili che avevo effettuato nei papiri di Democrito, ma quando i ricordi affioravano da paura mi attanagliava in modo anche peggiore perché sapevo di essere solo, orribilmente solo. Solo eppure vicino a forze senzenti di un genere vago e vasto, forze che pregavo di non comprendere e non incontrare mai. Nella voce dei rami che stormivano mi pareva di individuare una sorte di odio malefico, di trionfo demoniaco. A volte sembrava che conversassero con esseri mostruosi e inconcepibili i corpi verdi e scagliosi degli alberi, nascondevano quasi. Nascondevano alla vista, non alla coscienza. La più opprimente delle sensazioni era una sinistra consapevolezza della mia estraneità. Ben che vedessi intorno a me una serie di oggetti che potevo nominare, alberi, erba, mare, cielo, sentivo che il loro rapporto con me non era lo stesso degli alberi, erba, mare e cielo che conoscevo da un'altra esistenza e che ricordavo vagamente. Non sapevo precisare la natura della differenza, ma nel provarla tremai di paura. Poi, in un punto dove fino a poco prima non c'era stato altro che il mare vaporoso, vedi il prato verde. Una vasta distesa azzurra e increspata di piccole onde lo separava da me, ma avevo un'arcana sensazione di vicinanza. Spesso mi guardavo alle spalle, timoroso, per tenere d'occhio gli alberi, ma in genere preferivo fissare il prato che mi aveva impressionato in modo così strano. Mentre i miei occhi erano attratti da quel punto singolare, mi resi conto per la prima volta che la terra sotto di me tremava. Cominciò con una specie di sussulto che manifestava un accenno di manevole volontà cosciente. Poi il pezzo d'argine su cui mi trovavo si staccò dalla riva e prese il largo, trasportato lentamente da una corrente che non incontrava resistenza. non mi mossi, sorpreso e sbigottito da un fenomeno che non aveva precedenti, ma rimasi immobile finché un largo tratto d'acqua si frappose fra la terra della foresta e me. Poi sedetti in una sorta di stupore e di nuovo guardai il mare che brillava al sole e il prato verde. Alle mie spalle gli alberi e le entità che forse vi si nascondevano sprigionavano un'infinita aura di minaccia. Me ne rendevo conto senza bisogno di voltarmi perché più mi abituavo alla scena e meno avevo la necessità di affidarmi ai cinque sensi che una volta erano stati la mia unica risorsa. Sapevo che la foresta verde e intricata mi odiava ma ormai ero in salvo perché il mio pezzetto di terra si era allontanato a sufficienza dalla riva. Sebbene un pericolo fosse passato un altro si presentava ai miei occhi dall'isolotto che mi trasportava si staccavano continuamente zolle di terra sicché la fine non poteva essere lontana. Pure in questo frangente avevo la sensazione che per me la morte non sarebbe stata più morte e alza gli occhi al prato verde imbevuto di uno strano senso di sicurezza che contrastava col mio terrore generale. Quell'ora che sentii a una distanza incommensurabile un rumore di cascata non una delle banali cascate che avevo conosciuto in passato ma il fragore che sentirebbero nella lontana scizia se tutto il mediterraneo venisse precipitato nell'abisso. Il mio isolotto avanzava verso la cataratta eppure ero contento. Alle mie spalle in lontananza avvenivano cose terribili e straordinarie cose che decisi di guardare e che mi fecero accapponare la pelle in cielo incombevano forme scure e vaporose d'aspetto incredibile e minacciando gli alberi rispondevano alla sfida lanciata dai rami. Dal mare si levò fitta la nebbia e si udì alle figure del cielo finché la riva scomparve alla vista benché sull'acqua splendesse il sole ma quale sole la terra da cui mi ero allontanato sembrava sconvolta da un temporale d'inferno in cui la volontà degli alberi malvaci e delle forze che nascondevano si scontrava con quella del cielo e del mare quando la nebbia si alzò vedi solo mare e cielo azzurro perché la terra e gli alberi erano spariti a questo punto la mia attenzione fu attirata dal canto nel prato verde fino a quel momento come ho detto non avevo incontrato segni di presenza umana ma l'origine e la natura della canzone monotona che mi arrivava alle orecchie era inconfondibile se le parole erano del tutto incomprensibili la melodia risvegliò in me una bizzarra concatenazione di idee e ricordò i versi inquietanti che una volta avevo tradotto da un libro egiziano e che a loro volta erano tratti da un papiro dell'antica meroe nella mia mente si succedevano parole che temo di ripetere e che parlavano di antichissime forme di vita cose che popolavano il mondo nei giorni in cui era estremamente giovane creature che pensavano si muovevano ed erano vive ma che l'umanità non avrebbe considerato vive era uno strano libro mentre ascoltavo mi resi conto di un fatto che fino a quel momento mi aveva sorpreso solo a livello inconscio sul prato non avevo notato nessun oggetto particolare ma anzi lo identificavo con un'impressione di verde omogeneo che corrispondeva alla somma della mia percezione ora tuttavia mi rendevo conto che la corrente avrebbe fatto sì che il mio isolotto passasse a pochissima distanza dalla riva e che avrei potuto scoprire la verità sul canto misterioso e altri particolari del prato la mia curiosità nei confronti dei cantori era aumentata moltissimo anche se era mescolata a una certa apprensione pezzetti di terra continuavano a staccarsi dall'atollo su cui navigavo ma non ci feci caso perché sentivo che il corpo o apparenza di corpo che possedevo non sarebbe morto che tutto quanto mi circondava persino la vita e la morte era illusorio che avevo superato i confini della mortalità e dell'esistenza corporea ed ero diventato un essere libero e distaccato tutto questo mi pareva di sapere con certezza del luogo in cui mi trovavo non sapevo niente a parte il fatto che non poteva trovarsi sul pianeta terra una volta così familiare le mie sensazioni a parte il terrore opprimente cui ho accennato erano quelle di un viaggiatore appena salpato per un infinito viaggio di scoperta per un attimo pensai ai paesi alle persone che mi ero lasciato alle spalle e agli strani mezzi di cui avrei potuto servirmi per raccontare le mie avventure ma forse non sarei più tornato passai vicinissimo al prato verde e le voci si fecero chiare e distinte ma per quante lingue conoscessi non potei interpretare le parole dell'inno in un certo senso erano familiari come mi ero accorto da grande distanza ma a parte la sensazione di vago e inquietante ricordo non riuscii a scoprire altro le voci possedevano una qualità straordinaria che non posso descrivere una qualità da cui ero affascinato e terrorizzato ora i miei occhi distinguevano parecchie cose in mezzo alla vegetazione onnipresente massi coperti di musco verde cespugli d'altezza considerevole sagome imponenti ma meno definibili che sembravano muoversi o vibrare tra il sottobosco in modo impressionante il canto di cui ero ansioso di vedere i responsabili sembrava più forte nei punti dove le grandi sagome erano più numerose e si muovevano con maggior vigore poi mentre l'isolotto si avvicinava e il suono dell'immane cataratta si faceva più forte vedi con chiarezza la fonte del canto e in un attimo terribile ricordai tutto non posso non oso parlarne perché lì era racchiusa l'orrenda soluzione di tutti gli interrogativi che mi avevano ossessionato una soluzione una soluzione che vi farebbe impazzire come ha fatto quasi impazzire me sapevo finalmente qual era il mutamento che avevo subito e che altri un tempo uomini avevano subito a loro volta conoscevo l'eterno ciclo del futuro che nessuno di quelli come me può sfuggire vivrò in eterno conserverò la coscienza in eterno anche se la mia anima supplicherà gli dei per avere la grazia della morte e dell'oblio è tutto davanti a me oltre le cascate assordanti c'è la terra di Stetelos dove i giovani sono infinitamente vecchi il prato verde spedirò un messaggio attraverso l'orrendo sconfinato abisso a questo punto il manoscritto diventa illegibile